Nulla è cambiato a riposto lungo la strada provinciale 14 tra le frazioni di Archie e Torre Archirafi dove i gnoti avevano abbandonato numerosi pneumatici. Dopo più di un mese la discarica infatti è ancora lì e nessuno ha provveduto a bonificare il sito. A gennaio, al termine di un controllo del territorio, la polizia municipale aveva segnalato la pericolosa discarica, in larga parte costituita da pneumatici finiti anche nel letto del torrente Olmo, rappresentando così anche un problema di natura idraulica. Il sindaco Enzo Caragliano, dopo aver effettuato un sopralluogo, aveva subito trasmesso una nota di diffida alla città metropolitana di Catania, richiedendo un intervento urgente di bonifica. Non solo l'ex provincia non è ancora intervenuta, nel frattempo la discarica è cresciuta a dismisura. I gnoti infatti, sempre nella stessa area, in particolare sul ciglio della strada, hanno abbandonato rifiuti di vario tipo, tra cui calcinacci e sfalci di rovi e sterpaglie. Ad accertare la crescita esponenziale della discarica, ancora una volta è stata la polizia municipale, nel corso di una ricognizione sul territorio comunale. Ancora una volta la nostra polizia municipale, afferma il sindaco Enzo Caragliano, nel corso di un sopralluogo lungo la strada 14, a Torre Archirafi, di pertinenza provinciale, ha riscontrato che la discarica di pneumatici, scoperta nelle scorse settimane, non solo non è stata rimossa dall'ex provincia, così come richiesto in una precedente nota, ma nel frattempo si è ulteriormente estesa, con la presenza in loco di altre tipologie di rifiuti con grave pregiudizio per l'ambiente. Oggi stesso, ribadisce il primo cittadino, recapiterò una nuova e più incisiva diffida all'ex ente provinciale, affinché provveda con urgenza a bonificare l'area.